Isabelle Huppert è appena tornata da Pechino dove ha inaugurato Isabelle Huppert Woman of Many Faces, la mostra itinerante in cui 120 fotografi l'hanno ritratta ognuno al suo modo. La mostra è nata mesi fa nel prestigioso Museum of Modern Art di New York, ha poi proseguito il suo cammino in città come Torino, Madrid, Berlino, Mosca e Parigi. 120 fotografie firmate da altrettanti fotografi famosi che la ritraggono in momenti diversi. C'è qualche foto in particolare, Madame Huppert, che le sembra più vicino al suo modo di essere? Vorrei sottolineare che nessuna di queste foto, esordisce Isabelle con la sua voce flautata e ricca di Eve, mi ritrae meglio di un'altra. L'idea era di presentare 120 fotografie di una stessa persona scattata da 120 differenti fotografi con un diverso modo di vedere, sentire e scattare naturalmente, insomma un biglietto da visita individuale della loro personalità. Grazie a tutti!